ciao come state ci ritroviamo per il secondo appuntamento quella challenge molti di voi hanno partecipato sono contenta come sempre potete partecipare sul canale patron simona non solo radio dove mi trovo oggi oggi mi trovo in un posto storico se così possiamo dire tra albenga da lassio e sono sull'ultimo tratto di strada all'astricato che è quello originale della via iulia augusta tra albenga da lassio quindi andiamo veramente inizio nel tempo negli anni ci sono anche delle tombe funerarie una bella passeggiata da fare e sicuramente tra poco vedremo l'isola bene bene con questo panorama dell'isola gallinara vi saluto vi do appuntamento se volete partecipare anche voi alla challenge sul canale patron simona non solo radio e qui sotto i link di alcuni patron che hanno partecipato già alla challenge rispondendo a quale secondo loro è la canzone estiva per eccellenza vi ricordo la mia è surfing in the USA dei Beach Boys alla prossima challenge ciao vi aspetto ciao 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 ciao